Stop della sovrintendenza al progetto di ampliamento del parcheggio di via Pietro Aretino. Si blocca dunque l'iter che era stato osteggiato da un gruppo di cittadini contrari all'iniziativa che era stata tra l'altro affrontata nel corso dell'ultimo consiglio comunale grazie ad una interrogazione presentata dai consiglieri di Scelguerezzo per la sovrintendenza che in un primo momento aveva dato in nulla osta non ci sono le condizioni per autorizzare il lavoro al momento. Era stato l'avvocato Alboni a chiedere l'istanza di riesame lo scorso 4 marzo. Veniva contestata la riqualificazione del parcheggio autorimessa della società Pamoa. Oltre 20 anni fa ai tempi della costruzione del parking il comune si era riservato il diritto di acquisire tramite convenzione l'uso pubblico del solaio da destinare a giardino pensile aperto al pubblico. Questo passaggio non è stato mai perfezionato e la proprietà ha chiesto al comune alla scadenza dei termini la possibilità di qualificare il valore dell'area chiedendo l'autorizzazione di ingrandire la struttura. Per il legale tutto questo andava contro il vincolo paesaggistico data la vicinanza con la chiesa di Sant'Agostino e avrebbe accentuato il flusso veicolare in una zona tra l'altro adibita ZTL. La sovrintendenza ha preso atto di questo con un supplemento di istruttoria. La querel continua.